Salve a tutti ragazzi sono sempre io Cicharito e siamo qui ancora una volta su Untarned insieme a... Duce e vai bene ci siamo rincontrati dopo che lui è morto in qualche strano modo Gli ho preso la sua roba e poi gliel'ho data qui abbiamo trovato altri oggetti guardate che figata questo No no ok devo solo attraverso poi faccio un video di niente Bene allora vai navigatore satellitale via dici dove andare Ah no avevamo detto che dovevamo esplorare un'isola quindi prendiamo l'isola più vicino e ci andiamo Dove devo andare? Va dritto dritto non ti preoccupare All'isola Questa macchina... Eh questa no l'isola questa qua è un'altra cosa Dobbiamo andare su un'isola Eh ci andiamo andando un po' va a sinistra Sipi la strada un po' che parole Eh andiamo andando un po' a questo villaggio di un po' che ci sta C'è stata retta Ci siamo già stati mi sembra No 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 questo è un altro Se vuoi capire la mia mappa Sicuro? Occhio No perché ti sei messo davanti? Era l'ultimo colpo che avevo e volevo provare quell'arma Eh hai fatto il martello Oddio zombie di merda Ok è morto Più 4 di esperienza se ne me ne faccio Questa qua dovrebbe essere un negozio di elementari Allora vediamo C'è un'armatura qua tu l'avevi già Perché i zombie sono fermi? Merda ok Vabbè i zombie sono fermi Vabbè ma il martello ha sciotto troppo E che sciottatore Certo che sciotto il martello Se non sciottasse non lo prenderei Sono un poliziotto Allora vediamo cosa c'è di utile qua C'è questo Poliziotto No questo tutto marcio 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 Marcissimo Ok non c'è niente qua Oh no Vuoi fare il poliziotto coprimi 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 Cosa? Vuoi fare il poliziotto ora Ho un poliziotto Segui i miei ordini Guarda in giro se c'è qualche cosa per curarci Ho visto una zombie che forse ti seguiva o seguiva meglio Eh no no l'ho ucciso Eh ti seguivo io Hai visto mio cappellino bello bello da poliziotto? Si è bellissimo Una torta Non muoio Non muoio Ho trovato due torte Oh e muoio Io provo a usare questa pistola Due pistole Ho questa qua la diesel Ah è falcon Eh non ci sono le munizioni Niente 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 Ah ha messo una pistola nuova con l'aggiornamento allora Si ma non era questa Era la calancia per azito Oddio ho dato una revolver Che però non è bella Un caricatore Per una pistola Zombe Ma che ca Ma che ca Limboscata Oh venti di vita venti di vita cover me place Ma non mi colpiscono Ah come mi colpiscono Salta salta vengo me Io ammazzo tutti Da vero mi colpiscono Che cazzo di sangue che c'è Ok posso Sicurati Oh dietro 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 Dissi Mettiamo adrenalina Cos'è sta per curarla me? Se c'è qualcosa Usa qualcosa Biotici veloce Ok sto rimesso Ogni volta che si entra le imboscate Guarda quello anche Eh le imboscate è Ah adesso ho un bel po' di vita Oltre 70 70 76 76 Così antibiotici Usa qualcos'altro Tieni Usa 2 vendor Vabbè Tu mi costringi Certo Perché non voglio che muori E poi devo venirci a cercare di nuovo Sì c'era già C'era già Ok una C'è un parco giochi Arriva dal 96 di vita Wow Un parco giochi Oh ho la munizione per un fucile Mi sembra che sia il mio Dai un'ora per Prendere Qualche munizione Nulla Ho trovato L'Applejuice Oh sto per morire No non è vero Non sto per morire Però c'ho sete Ma questo è un villaggio Abbastanza grande Bello Mmm Abbastanza Sì 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 Buono buono Dov'è l'Applejuice? Eccolo Beviamo Ok Niente Bene bene Cos'è questo qua? Il can Il can Per fare un giro sullo scivolo Eeeh Ok Ok Va bene bene Ci sono dei cervi qua Se ci fossero i cervi zombie Zombie No 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 Guarda corrono eh Ah si è qua pure Allora Cos'è Niente Qua non c'è niente Vestiti Un bastoncino di legno Niente Niente da fare Oh ma c'è sta una padella? Ah no Tu hai Ci sono anche le padelle Non è una padella L'hanno messe? Questo zombie Questo zombie ha satanato Non vogliamo dire Oh un caricatore per la strada Ce l'hai tu questa L'avevo presa La continua Per te Ti prego dimmi che ti ho la cappa Non l'ho buttata Vero? Un cimitero No non ce l'ho la cappa Porca miseria L'hai lasciata all'aeroporto Non ho la cappa No 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 Brutto brutto Butta giù Se non c'è la cappa Non c'è la cappa È inutile Ci sono da canti Non bevo un attimo Cutter full Drop Ok qui sta una macchina Un cimitero Molto bello Molto felice Cos'è? Oh Ho trovato un seme Bene Direi di piantarlo in qualche luogo Oh zommi dietro Zommi dietro Si 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 tranquillo 50 e 50 Aspetta Allora io ho 88 di vita Quindi prendo qualcosa per recuperarle Anche un po' No Che cazzo aumenta questo? L'hanno patchato di nuovo Che succede? Che succede? Ok ragazzi Ma no fa fallo 10 minuti Fallo Eh era di 7 minuti Tutta Ok Eh si è tirata la corrente Siamo qui e continuiamo Bene Ma fa 15 minuti che è più intrattenente Eh è quello che cerco di fare Vai Allora continuiamo Esatto ricarichi la notte Cosa ricarico? Ah si ma non è che mi metto Lascio il pc acceso tutta la notte Bravo Così si fa Sono mica pazzo Allora Eh io me ne andrei subito su un'isola Perché sono curioso Se c'è scritto in un'isola e c'è qualcosa Eh ma di venire Io muoio dalla voglia di trovare l'elicottero schiantato Perché ho visto le foto e c'è un elicottero schiantato Ma abbiamo guardato là sopra Allora noi dobbiamo andare in un'isola Eh Quanto so dove è St Peter's Island Ecco dove erano Questa l'elicottero Vuoi usare con me in macchina? Eh si vieni Qua avevo controllato buono mi ricordo C'era qualcosa C'era qualcosa Patrice Si mi avevo già controllato Non mi mancano tra Mi mancano tra Non mi sono spezzato l'osso Perché Mi stai scendo alla fame Ok mi stai scendendo la fame Dai vieni ti spetto Ti sento Ti sento porto Ti sento porto Ti sento porto Ti sento porto Ti sento portavo Ti sento porto E' posso dire E' cosa fare là Vieni sull'auto ma se ne è un'altra qua sono un'auto dove va a morire dove va a morire ah non posso neanche saltare con il nostro rotto bene c'è ragione posso saltare e correre molto bene a trovarti vieni ci sono aperto sono al food eh sono qua vicino io ah porca miseria ecco di ecco di devi trovarti dei pantaloni che sei nudo giusto vergogna non me ne sono accorto dai sali cosa ci sta qua dai non c'è niente non c'è mai niente adesso fai da navigatore andiamo a trovare quell'isola vai non te l'ho trasportato dimmi dove devo andare si si tu guida 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 dove vai vai dritto lungo la costa dove vuoi andare ma io voglio andare sull'isola vai a destra senza che ti schianti segui la strada oddio mi dici vai a destra segui la strada poi da qui non andare a destra perché ci sta una base militare non andare capito si devi andare a sinistra sinistra dove chiedono le tente bravo poi vai dritto non girare a destra per il ponte lungo infinito e vai dritto vai dritto bravo poi ci sarà un villaggio ora e lì dove può entrare e dobbiamo andare a destra a sinistra ecco fermo fermo destra a destra non si può andare a destra da qua dove devo andare a fatti a piedi ma dove attento sali in auto sali che ti ammazzano sali che ti ammazzano ok vado da qui vado qui quanto sei con la vita oh oh no ci abbiamo perso un'auto buona porca merda li sto scioltando tutti l'auto migliore che avevamo oddio è esplosa eh merda pantaloni trovati ah peccato peccato perché con la macchina facciamo 10 secondi di silenzio oh fertilizzante dai cazzo 10 secondi di silenzio poi il fertilizzante ti serve per farlo crescere una velocemente subito fallo così ce la portiamo dietro aspetta spietta che metto carot seed potendo seed cosa metto ci sta un po' di cose vabbè potendo seed vi vedere com'è come lo credo dove effettivizzata tanto io di cibo ce ne ho abbiamo allora dove 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 ma io l'unica cosa che mi preoccupa sempre è la salute per curarci eh fresh potete quando dici tu ce ne andiamo dimmi guarda di nuovo la mappa si 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 ti giuro è così eh guarda non dobbiamo andare lungo una costa aspetta fammi fammi ci muovere devi seguire me no ti sto seguendo mi devo orientare queste cuffie di merda oh mi stanno massacrando le orecchie si segui me dovevo andare andiamo segui me verso di qua diretta perché ho visto male attento dietro ok ok perfetto voi vedrete l'isola nel prossimo episodio quando allora ciao ciao ciao